Il lungo cammino della Palestina è un libro che vuole essere anche una sorta di guida alla Palestina facilitata, strutturata in schede però molto chiara e precisa. È un libro che è nato da un progetto collettivo che è quello dell'Associazione Palestina Cultura e Libertà che è un'associazione costituita da un paio di anni e che si occupa appunto di cercare di fare conoscere la Palestina nelle varie sfumature non soltanto in occasione di eventi tragici o di quando si discute di atti di terrorismo. E la curatrice Alessandra Mecozzi che è la presidente dell'associazione. È strutturata attraverso schede, cronologia e delle aree di approfondimento e soprattutto delle importantissime mappe storiche che raccontano l'evoluzione della Palestina negli anni e che con una sola visione fanno capire anche che cosa significa l'occupazione. Per cui materialmente è uno sguardo come si è ristretto il territorio dal 48 fino a oggi. Ne parleremo con Alessandra Mecozzi, appunto la curatrice del libro che è edito dalle edizioni Q, che è una piccola casa editrice curata da Basim Dahmash, che è un intellettuale palestinese che è in Italia da diverso tempo e che ha questa casa editrice piccola ma di grande pregio. Con Luciana Castellina che ha seguito in varie fasi le vicende della Palestina, dai tempi di Time for Peace fino al 2002 quando c'è stato l'attacco a Rafat. Molti internazionali hanno provato a raggiungere Ramallah spesso essendo respinti e ne parleremo con Erasmo Palazzotto che è stato vicepresidente alla Camera della Commissione Esteri, che comunque nel suo percorso politico e associativo ha sempre seguito le vicende della Palestina e di diversi popoli in situazioni di difficoltà e poi con Fate Amdan che è responsabile dell'associazione culturale Al-Quds di amicizia con la Palestina.